Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontable.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale consultare il sito certificati.fontable.com. Peraltro siamo a metà di settembre e inizia anche quella finestra temporale in cui immagino porterete sul mercato diversi strumenti con le maxi cedole. Che uso se ne dovrebbe fare di questi strumenti? Sicuramente Riccardo il maxi cash collect ha tanti usi. Il principale, lo sappiamo bene, è quello di incassare il maxi premio iniziale, compensare le minusvalenze che stanno per scadere alla fine dell'anno. Poi dipende da che prodotto si compra. Noi la maggior parte dei maxi cash collect che abbiamo emesso abbiamo previsto un flusso cedolare dopo, quasi sempre intorno al 6% anno. Non è tantissimo, però comunque è un prodotto che anche se ti stacca il maxi premio scende di prezzo, comunque incassi un 6% anno ulteriore, quindi lo puoi tenere. Poi ci sono anche prodotti che hanno una cedola praticamente quasi nulla dopo il maxi coupon, in quel caso ovviamente è un prodotto da tenere in portafoglio a poco senso, quindi dipende molto da che prodotto si utilizza e anche dalla situazione che si ha all'interno dell'azienda fiscale. Gli utilizzi che si possono fare sono tanti, sicuramente comprare il maxi cash collect, incassare il premio iniziale e reinvestire come hai detto tu sulla stessa struttura è un'opzione. Poi ovviamente va considerato questo che poi si reinveste la liquidità incassata col maxi premio ad un prezzo del certificato più basso perché ha staccato questa componente di premio dal prezzo e quindi poi il rendimento su base annua non è più il 6% perché va rapportato al prezzo di acquisto e poi si fa una media tra i due acquisti, quello prima dello stacco e quello dopo, quindi sicuramente è una cosa che si può fare. Noi stiamo puntando sempre, quasi sempre, su prodotti che possano essere tenuti in portafoglio anche dopo e lo anticipo a breve, probabilmente settimana prossima ne metteremo di altri con maxi premio a dicembre e possibilità di rimborso anticipato già entro l'anno. Questo perché? Perché chi ha un intermediario che opera con compensazione a chiusura ha l'impatto sulle minus valenze, l'impatto positivo è la compensazione delle minus solo alla chiusura della posizione, quindi se lo vende o se il prodotto scade. Se andasse in scadenza si riuscirebbe appunto a efficientare lo zainetto fiscale anche per un investitore con compensazione a chiusura, non solo per quelli con compensazione immediata che appena incassano il maxi premio hanno subito la compensazione con le minus nello zainetto. Quindi anche un'altra considerazione da fare è quella della tipologia di intermediario che si utilizza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.